Il loro arrivo anni fa era stato salutato come un segnale confortante di ammodernamento del trasporto ferroviario sulla linea Milano-Tirano. Parliamo dei treni Alstom-Coradia Meridian. Dalla scorsa settimana, rileva Giorgio Nana, segretario generale della Filt CGL di Sondrio, due di questi convogli sono spariti dalla Valtellina per essere destinati ad altre linee, sembra la Milano-Malpensa. In cambio, riferisce il sindacalista, Trenordanoi ha rimandato i vecchi Ale 582, treni che hanno superato i 40 anni e che ci avevano promesso sarebbero stati rottamati. In un periodo estivo caratterizzato dalla presenza sul lago e in montagna di numerosi turisti, credo sia un brutto biglietto da visita. Nana ha subito sensibilizzato al problema il prefetto di Sondrio, il presidente della provincia e il sindaco del capoluogo. Critiche anche a RFI. Al deposito della stazione di Sondrio la pompa dell'acqua non funziona più, gli addetti alla pulizia delle carrozze devono riempire il secchio alla fontana, come una volta.